ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo assaggiamo nel corso del tempo ho accumulato un po di cose quindi magari un assaggiamo al mese ve lo beccate anche se non è proprio video tappabuchi e oggi siamo qui per assaggiare queste patatine della linea Lidl sol e mar dedicata alla spagna appunto andalusian style quindi al gusto gazpacho il gazpacho per chi non lo sapesse sono andata anche a cercarlo io per essere sicura di quello che vi dico è una zuppa fredda a base di verdure tipica della spagna dell'andalusia in genere è fatta principalmente a base di pomodoro vi faccio vedere un pochino la confezione da vicino come di consueto appunto vedete molto semplice la parte frontale mi preoccupa un pochino la parte appunto della ballerina di flamenco immagino che sia che sembra avere un un vestito infuocato non me le aspetterei troppo troppo piccanti in realtà nel senso il gazpacho non penso sia così tanto piccante sul retro vi faccio vedere come al solito gli ingredienti e vi faccio vedere anche che in realtà per quanto riguarda quello che scrivono loro come gazpacho a parte che è una preparazione romantica a base di maes sale zucchero spezie tra come cipolla paprika in polvere e pepe quindi il pomodoro tecnicamente non lo hanno nemmeno visto queste patatine vedremo cosa appunto cosa appunto ci sarà come saranno al gusto vi faccio vedere anche per chi è un pochino più nerd su queste cose qui gli valori nutrizionali e un piccolo dettaglio è il codice a barre con la con il ventaglio appunto da ballerina di flamenco tango quello che è andiamo quindi ad aprire odore molto molto particolare ti prende proprio in faccia molto molto forte sa proprio di cipolla in realtà per quanto vi faccio poi vedere un un ingrandimento della patatina è bello bello rosso adesso vediamo se ne becco una vi faccio ecco questa qui è decisamente più rossa assaggiamo mi aspettavo peggio sono tanto di cipolla non è il massimo in realtà per essere appunto delle patatine da mangiare insieme agli amici avere poi questo gusto di cipolla in bocca non sono piccanti questo almeno almeno da quel punto di vista siete a posto per chi non ama il piccante non hanno appunto un gusto proprio sfortissimo almeno rispetto all'impatto dell'aprire la busta dell'odore appunto il gusto è molto molto più tenue e bilanciato diciamo così predomina però appunto questa componente di cipolla che proprio va ad uccidere qualsiasi altra cosa possa esserci dentro quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un like se avete assaggiato anche voi queste patatine fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate per non perdervi i prossimi video mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella sempre qua sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e anche per vedere dei contenuti esclusivi che appunto carico su ogni social cerco di variare il più possibile non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi have a nice life ciao